È stato l'unico istituto dell'Umbria ad aver vinto il bando del WWF per la creazione di un'aula natura, spazio all'aperto in cui connettersi con l'ambiente circostante. La scuola di Carbonesca del secondo circolo didattico di Gubbio ha così inaugurato, alla presenza del sindaco della città Filippo Stirati e degli assessori Simu Raminelli e Alessia Tasso, il nuovo spazio verde con lo stagno, le siepi e il giardino nel cortile dell'istituto. Il progetto infatti prevede la creazione di vari micro habitat in cui gli alunni del Plesso possono giocare, imparare, relazionarsi con i compagni e riacquistare il rapporto con la natura. Perché avevate deciso di partecipare a questo bando? Qual era l'obiettivo per la scuola? Un'esperienza. Ai sogni bisogna crederci e bisogna continuare ad investire passando questo messaggio ai bambini. Volevamo valorizzare un territorio come Carbonesca e volevamo far capire il valore aggiunto di una scuola localizzata fuori dalla città e con tante potenzialità da offrire ai bambini e questa è stata la ragione per cui abbiamo deciso di investire proprio a Carbonesca. Quando poi i nuovi dirigenti raccolgono eredità importanti e particolari come questa della Una Natura è assolutamente facile il lavoro ed è una strada assolutamente spianata. Ovviamente quest'Aula Natura rappresenta un momento di educazione ambientale di altissimo livello tant'è che in Umbria solo questa Aula Natura è stata approntata dal WWF. I circa dieci alunni della pluriclasse della scuola hanno in parte progettato e realizzato alcuni elementi dell'aula come le fioriere e lo spaventapasseri. Il contatto con la natura gli consente non solo di apprendere la scienza ma anche altre discipline come la tecnologia. Questa è un'Aula che sì prettamente è per le scienze ma in realtà qui si può apprendere di tutto. Noi ad esempio abbiamo studiato la simmetria semplicemente facendo osservare l'ambiente riflesso nello stagno. abbiamo misurato tutto il perimetro dell'aula, ridotto in scala e abbiamo fatto una piantina della nostra aula. Poi abbiamo fatto orientamento, stiamo studiando anche i venti quindi hanno costruito tutti questi attrezzi, l'aereo lassù in alto per poter proprio lavorare a tutto campo. Qui abbiamo lo stagno ad esempio che è alimentato da un pannello solare, ad esempio c'è il compostaggio. I bambini dopo mensa prendono tutti gli avanzi della mensa e li mettono lì dentro. Poi sotto c'è la possibilità di riprendere la terra che alimenta il nostro orto perché lo fertilizza. Quindi è tutto un lavoro ecosostenibile. Un progetto, quello dell'Aula Verde del WWF, che premia la scuola di Carbonesca, inauguratasi nello scorso aprile e tornata ad accogliere gli alunni della frazione dopo quattro anni di chiusura post terremoto del 2016. Un piccolo plesso che si scontra, come tanti, con la progressiva regressione demografica ma che malgrado questo continua a investire nella formazione degli studenti.